Bella come sempre Charlotte Casiraghi, avvistata passeggiare tra le viuzze di Capri in questa calda estate che la vede protagonista, tanto shopping e relax per una donna bellissima che sta per diventare mamma e che il riposo se lo merita tutto, con lei il fidanzato Gad Helmael, attore francese che ha colpito il cuore della bella secondogenita di Carolina di Monaco. Per i due un anticipo di luna di miele attendendo l'arrivo del loro primogenito e un favoloso yacht per godersi il Golfo di Napoli e l'intera costiera amampitana. All'arrivo in piazzetta, dopo il tramonto, Charlotte ha seguito l'itinerario classico della passeggiata di prima sera, con un rapido sguardo alle vetrine lungo le boutique di via Fisisana e lo shopping da turisti per caso nelle stradine intorno alla piazzetta e poi il rientro a bordo di un taxi scoperto che li ha lasciati nella baia di Marina Piccola. Ad attenderli lo yacht di 50 metri ormeggiato di fronte ai faraglioni, un lusso spropositato per una coppia elegante e regale.